Se sei qui è perché il tuo cane ha qualche problema o difficoltà che vorresti risolvere o perché desideri che il tuo cane ti ascolti o perché hai un cucciolo e vuoi crescere nel migliore dei modi possibili. Ho creato questo percorso per aiutare tutte le persone e i cani di qualunque razza e qualunque età perché questo percorso parte proprio dall'insegnarti chi è il tuo cane nella sua unicità. Ti insegnerò a trasformare le vostre vite. È una grande opportunità. Iscriviti subito. Ciao!